Amici fan d'allenatori, bentornati da Carmi Special. Siamo con i consigli al Fanta Calcio per la 17esima giornata di Serie A. Come sta andando il vostro Fanta Calcio? Raccontatemelo qua sotto nei commenti, oltre ovviamente a lasciare un bel like ed iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Tra l'altro adesso ne arrivo delle feste, buone feste a tal proposito ragazzi, spero le passerete bene. E a proposito di feste, speriamo innanzitutto di trovare dei bonus sotto l'albero e vi ricordo che potrete iscrivervi anche al Fanta Week. I ragazzi di Living Mantra hanno organizzato questo Fanta settimanale, quindi non continuativo ogni settimana, a Storia a Sé. Vi ricordo, ne avevo parlato anche qualche settimana fa, se non siete ancora iscritti potete iscrivervi, io vi lascio in descrizione. Il link sia del regolamento che appunto per il sito, in modo tale da potervi informare e iscrivervi. Ragazzi è molto semplice, tra l'altro vi può servire, come vi ho detto anche in passato, per allenarvi anche alla costruzione e alla gestione di una rosa mantra, perché ragazzi del Living Mantra vi fanno divertire anche con questa modalità, quindi trovate tutte le informazioni, i link in descrizione. Mi raccomando, fateci un pensierino e iscrivetevi, va bene? Buon Fanta Week a tutti! Andiamo a prendere adesso gli indici di schierabilità su ovviamente Fanta Lab, vi ricordo che potete importare facilmente la vostra rosa e visualizzare poi anche la formazione che viene fuori in base ad esempio alla media voto, Fanta Media, gli indici di schierabilità di Fanta Lab se avete appunto il premium o se addirittura siete abbonati al mio canale potete poi andare a sincronizzare nella sezione Creators l'abbonamento e andare a riscattare ad esempio i miei indici. Ok, quindi è uno strumento comodissimo Fanta Lab, ci sono tantissimi strumenti gratuiti, se poi volete supportare questo progetto potete farlo appunto tramite il premium. Andiamo a vedere i miei indici appunto, partiamo da Empoli Lazio, 1 a 2 il mio pronostico, non ci sono ancora le informazioni sugli arbitri, verranno caricati a breve quindi spulciate oppure non perdetevi le dirette che faremo domani, 1 a 2 come detto il mio pronostico, consigliati Felipe Anderson e Luis Alberto sconsigliati invece Grassi, Cacace, Scommesse, Casale e Guendosi perché potrebbero essere pericolosi su palla inattiva ovviamente tra i schierabili, quelli con indice comunque molto alto sono anche Zaccagni e Immobile e insieme a loro si può provare chiaramente in porta prove delle Dell'Empoli è difficile scegliere qualcuno, c'è l'ex cancellieri o bisogna capire anche se recupererà Caputo che al momento è in forse tra i possibili subentranti, occhio a Vesino, Castelliano se è Pedro ma qui attenzione alla copertura e lo stesso vale un po' per Camada Romagnoli non è chiaro se andrà a recuperare quindi state attenti anche qui alla copertura per quanto riguarda l'Empoli ho messo 2 a 1 nel mio pronostico ma non è detto che riuscirà a segnare secondo me in casa a qualche occasione in più l'avrà ma non è così scontato però vedo un favorito alla Lazio anche se quest'anno ha un po' faticato in questo tipo di partite quindi fatemi sapere anche la vostra su questo match se avete la stessa sensazione passiamo a Sassuolo Genua, 2 a 1 il mio pronostico però per la squadra di casa ho messo tra i consigliati Torsvert e Pinamonti di Torsvert abbiamo parlato anche del Fanta Tactics di ieri recuperate in caso il video se non l'avete visto ma molti di voi non l'hanno visto Pinamonti da lui mi aspetto una buona prestazione comunque che gli possano capitare delle occasioni da bonus lo stesso vale chiaramente per Berardi e Lauriente ma nelle scommesse ho messo Matteus Enrique e Boloca da loro mi aspetto qualcosina di interessante magari Boloca in ottica assist o con i tiri da fuori Matteus Enrique con gli inserimenti è molto interessante da quel punto di vista sconsigliati invece Bani Badeli per anche il rischio a munizione, sufficienza del Genoa gli unici due sono forse Gudmundson e Malinoski in leghe numerose si può provare anche un Dragusin ok poi valutato in base alle alternative altri nomi da poter provare forse tra i subentranti mi viene in mente Castiglieco Bairami se li avete con copertura però potreste magari avere scelte migliori e lo spero torna forse tre soldi mi auguro non vada a giocare almeno me lo auguro per il Sassuolo più che altro siamo con Monza Fiorentina qui sono andato su un pronostico molto più vivace 2 a 2 ho messo perché mi aspetto una partita un po' pazza consigliati Colpani e Colombo con indice 8 e 7 ovviamente Colpani difficilmente lo andrete a panchinare però so che magari qualcuno sta pensato adesso sta faticando no ragazzi tutto dipende dal tipo di partita il Monza fatica con le bighe diciamo che la Fiorentina è una squadra importante però mi aspetto possa concedere diverse occasioni al Monza sconsigliati invece Carboni e Lopez per un discorso legato a possibili insufficienze ammunizioni soprattutto scommesse sottile Ciorria dei quali mi aspetto qualcosina di interessante potrebbe essere questa la partita dove torna il bonus Ciorria vediamo lo attendiamo un po' tutti allora colore che l'hanno preso ovviamente chiaramente Bonaventura tra i più consigliati quello con indice più alto 8.3 Beltrano dopo che si è sbloccato si può riconfermare lui avrà il ballottaggio probabilmente con Zola valutate se avete lo switch magari potete utilizzarlo altri nomi da poter provare il leghe molto numerose anzi Kriakopoulos si può provare in generale poi valutato in base alle alternative Biraki e Cayode lo stesso gli altri difensori forse con lega molto numerosa tra i due portieri preferisco Di Gregorio entrambi buoni per modificatore ma un po' meno per il discorso col subito nel senso che potrebbero compensare con il buon voto i gol che andranno a subire in questa partita perché come detto mi aspetto una partita da over tra le possibili riserve subentranti come detto il Giacirato Nzoa ma spero abbiate un po' di meglio comunque almeno una copertura Valentin Carboni sono loro due i più interessanti Duncan però spero abbiate sinceramente di meglio siamo con Salernitana Milan 2-0 per il Milan e il mio pronostico era indeciso tra lo 0-2 e l'1-3 perché la Salernitana ha qualche nome lì davanti tipo Diak Andreva anche in quei mesi quando entra che comunque a qualche occasione la vanno a creare quindi vediamo se il Milan riuscirà a portarsi a casa questo clean sheet consigliati come la scorsa giornata se vi ricordate Renders era consigliato si è bloccato lo stesso per questa giornata insieme all'off to chic loro schierabilissimi ovviamente Leao e Giroud anche loro hanno indice anzi molto più alto chiaramente lo stesso vale per Pulisic che è tra i centrocampisti quello con indice forse più alto in questa giornata sconsigliati Gion per Dani Luke la difesa della Salernitana ragazza imbarazzante scommesse di A e Ciukwels di A perché scommessa? perché so che molti lo andranno a panchinare e probabilmente lo farò anche io ma qualora le vostre alternative abbiano comunque pure loro partita difficile boh io l'ho visto interessato cioè tocca bene il pallone soprattutto se si stacca quando entra magari Ukemesi a fare la punta beh lui riesce comunque a gestare bene il pallone il problema è che la partita non sarà semplice che i compagni molti sono oggettivamente un po' scarsi Ciukwels invece secondo me potrebbe entrare e far qualcosina quindi se lo avete con copertura potreste valutare di schierarlo della Salernitana ragazzi a parte appunto Candreva e di A gli altri lascerei stare tra i possibili subentrani del Milan c'è anche Jovic le che numerose che potete provare ma con copertura e Florenzi gli altri lascerei stare spero abbiate di meglio passiamo alla prossima partita Frosinone Juventus 1-1 il mio pronostico ho messo sull'è Kostic così è sull'è chiaramente ex partita particolare per lui per Caio Giorgi Baranecea un po' tanti ex in questa partita ma sull'è sarà secondo me quello che ha voglia di riscatto di far bene riscatto nel senso nei confronti magari della Juventus di Allegri vedremo se sarà così per quanto riguarda invece gli scossiati ho messo Baranecea e Locatelli perché rischiano secondo me un cartellino scommesse Cambiasso e Rabiot non è chiaro se sarà della partita io comunque se avete una copertura io lo andrei a schierare secondo me ci può stare da provarlo lo stesso così come può essere un'idea fare un tentativo su Milik con copertura però mi raccomando Vlaovic Chiesa non gli ho messo indice molto alto ma le loro occasioni in questa partita le avranno altri nomi da poter provare il già citato Kostic come detto McKennie si può provare è la difesa della Juventus non tanto perché mi aspetto chissà quale prestazione a livello difensivo ma perché sono i veri attaccanti della Juventus va bene ho messo il pronostico 1-1 però con la Juventus succede così ti aspetti magari l'1-1 che è il risultato che mi è venuto dall'analisi ok e poi magari vince 1-0 ti aspetti l'1-0 e finisce 1-1 un po' come è successo con il Genoa passiamo a Bologna Atalanta sfida interessantissima che tutti vogliamo vedere perché il Bologna tra l'altro viene dalla vittoria contro l'Inter in Coppa Italia spettacolare Zirk Zè con i due assist anche Endoje in forma è stato diciamo un treno su quella fascia ora era complicato trovare un pronostico dall'analisi veniva fuori l'1-1 consigliati Miners Endoje Endoje veramente in forma dal punto di vista atletico vi faccio vedere perché su Fanta Lab possiamo andare a spulciare guardate le ultime cinque giornate ragazzi questa è la media voto se vado a prendere la Fanta Media anche molto buona gli manca il gol in campionato segnato in Coppa Italia vedremo se farà qualcosa in questa partita attenzione ai difensori io andrei solo su quattro nomi che sono Poschek e Calafiori da un lato mentre Zapagos e Ruggeri dall'altro i centrali dell'Atalanta mi preoccupano un po' così come secondo me Belchema e Christian potrebbero avere comunque qualche problema a marcare anche gli attaccanti della Dea Muriel per ora in forma l'ho messo nelle scommesse insieme a Pasalic che al momento non è dato titolare ma potrebbe comunque fare qualcosina sconsigliati Jim City e Derun a rischio cartellino altri nomi da poter provare in Lega numerosa si può provare Ederson chiaramente Lukman è un attaccante buonissimo anche in questa giornata Zerkze neanche a dirlo ragazzi mettetelo sempre per ora è una stagione clamorosa super costante ho paura ad aprirvi guardate qui Zerkze ragazzi di cosa stiamo parlando un'insufficienza neanche a far la posa credibile comunque subentrandi il Giacinato Pasalic De Ketelare e attenzione potrebbe recuperare Scamacame in forte dubbio quindi state attenti se non avete copertura forse non andrei a rischiare potrebbe recuperare Orsolini potrebbe essere dalla partita però anche qui assicuratevi di avere almeno un nome in panchina altrimenti non andrei a rischiare passiamo al prossimo nome c'è l'ex Freuler però io ho dato un indice basso perché è quello che si occupa un po' volte di interdizione è in forma ultimamente sta facendo buone prestazioni però come vedete dalla heatmap non è molto offensivo però se poi segna giusto giusto contro la sua ex squadra sarà particolare come cosa Torino di Ese 1-0 il pronostico vedo favorito il Torino ho messo nei consigliati Milingovic e Savic del portiere e buongiorno Ferreira invece è sconsigliato scusate mentre Sanabria e Ilic nelle scommesse ovviamente Duvanzamata anche lui schierabilissimo 7.7 di indice come detto il Torino subisce davvero poco a 0,3 nelle partite facili in casa subisce anche poco 0,5 gol subiti 0,3 come detto nelle partite facili insomma una combinazione che mi fa dire che ci potrebbe essere l'ennesimo clean sheet del Torino altri nomi da poter provare oltre al giaceto si possono provare Ilic del quale abbiamo parlato nel Fandatatix ieri e forse Vlasic ci può stare anche Rodriguez in difesa dell'Udinese Pereira quello più interessante ha il trend migliore Samarzec e Lovric vedremo appunto dovrebbero essere questa volta titolari Samarzec non ha giocato la scorsa ci sono forse voci un po' di mercato vedremo ma secondo me l'Udinese non può farne a meno almeno in questo momento e Lucas spero abbiate qualcosa di meglio ve l'ho consigliato la scorsa giornata spero mi abbiate dato retta ma questa per me sarà un po' più complicata per lui però vedremo per quanto riguarda i subentranti nulla da attenzionare spero non abbiate questi giocatori ragazzi spero abbiate di meglio Radonich potrebbe essere convocato ma non vi dà garanzie quindi lasciate magari stare passiamo alla prossima Interlecce qui mi sono sbilanciato 4-0 addirittura perché c'è André scusate lo calo si è spostato 4-0 perché perché ragazzi la sconfitta in Coppa Italia soprattutto un Inzaghi non re di coppe re di coppe gli è rimasta qua secondo me punta tantissimo lui sul campionato lo sapete proverà a demolire l'avversario attaccheranno come forse nati c'è il dubbio Martinez perché è uscito acciaccato ma comunque gli ho dato lo stesso indice non vazzardate a panchinarla a meno che non esce la notizia non convocato robe di questo genere poi consigliati Barella e Acerbi ovviamente per non mettere nomi più scontati però loro comunque mi aspetto una prestazione buona Acerbi considerate se preso il tunnel da Zerkze potrebbe subito magari rifarsi con un gol su pallina attiva Barella da lui mi aspetto una buona prestazione ovviamente Celanoglu e Mkhitaryan hanno indici ancora più alti Di Marco difensore con l'indice più alto di tutto il campionato nelle scommesse come vedete ho messo Bissek e Arnautovic dai quali mi aspetto buone cose Arnautovic se le alternative hanno partita complicata non avete chissà che cosa e vi coprono provateci su Arnautovic secondo me anche in pochi minuti potrebbe avere qualche occasione interessante sconsigliati Baschirotto e Centri ma così come tutto un po' in Lecce lascerei stare forse l'unico è Bandai mancanza di alternative Strepezza il lega è molto numerosa Strepezza lo so come va a finire ragazzi che non lo metterà nessuno sta giornata segnerà io me lo auguro perché comunque è comunque un buon segnale dovesse segnare anche se lo panchinerevo tutti 4-0 come detto il mio pronostico quindi starei attento a Falcone poi lo sappiamo è un buon portiere da modificatore però mi aspetto tanti gol dell'Inter tra i subentranti anche buono Carlos Agusta e Frattesi gli altri già citato Arnautovic potrebbe recuperare Pavard però magari non è il suo giochera in questa partita potrebbe riposare ancora passiamo a Verona Cagliari 2-2 come pronostico un attimo che devo spostare Nandez negli sconsigliati consigliati Ngonge e Luvumbo dai quali mi aspetto un bonus magari da entrambi Luvumbo io penso lo andrò a schierare Ngonge nel Fanta in cui ce l'ho penso lo andrò a mettere Terraciano invece Dossena messi nelle scommesse Dossena perché è molto alto può nelle palle inattive far qualcosa anche se battaglierà duramente con Djuric sono tutte e due ben impostati e Terraciano perché è abbastanza costante ne abbiamo parlato nelle Fanta Tactics recuperate il video di ieri altri nomi interessanti sono quello di Oristanio da un lato Iancto per quanto riguarda il Cagliari mentre Lazovic forse Foloruscio sono queste le giornate in cui potete provare questo tipo di nomi a mio giudizio tra i possibili ventranti nulla da attenzionare Henri Mboulat Lapadula ecco forse Lapadula per quanto riguarda il Cagliari e Viola loro due se avete una copertura potete volendo provarli ok ci possono stare Roma-Napoli 1-1 come pronostico qui era un po' complicata fare diciamo un'analisi dal punto di vista pronto del risultato perché perché ci sono alcuni giocatori in fosse un Napoli che ha preso una batosta contro il Frosinone quindi ha subito voglia di riscatto e la Roma che contro le bighe comunque si chiude bene subisce poco a livello di di gol quindi mi è venuto fuori appunto il pronostico 1-1 chiaramente è un po' favorito il Napoli tra i consigliati ho messo Politano e Zelischi 7.5 7.1 i loro indici sconsigliati invece Christensen e Paredes da loro mi aspetto diverse difficoltà insufficienza e probabilmente anche un cartellino scommesse El Shalawi e Juan Jesus Juan Jesus perché ragazzi perché è Natale se non lo metto oggi Juan Jesus quando lo metto quindi solo per quello quindi è un po' a meme ragazzi scusate la battuta pessima Di Lorenzo non ha fatto benissimo anzi ha fatto malissimo in Coppa Italia quando è subentrato quindi Occhio potrebbe magari avere voglia di riscattarsi subito Osimene Quara neanche licito ragazzi ma non va azzardate a panchinarli El Shalawi come detto è una scommessa interessante Lukaku potrebbe mettere in difficoltà Rachmani nelle palle alte Rachmani sta soffrendo tantissimo quest'anno quindi attenzione a questo aspetto Occhio anche ai difensori di Roma e ai centrali del Napoli magari li andiamo a mettere in altre partite dei subentranti oltre forse a Raspadori mi viene in mente Spinazzola che in forte dubbio valutate se provarlo dipende appunto dalle ultime notizie poi di domani da questo punto di vista ok detto ciò questa è l'analisi su tutte le partite voglio sapere la vostra opinione su alcune partite molto delicate Bologna Atalanta questo anche di Roma Napoli che non era semplice questa giornata andare a fare anche un pronostico un'analisi tattica insomma voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti mi raccomando chiaramente iscrivetevi se non siete ancora iscritti lasciate un bel like ed un commentino vi auguro chiaramente buone feste buona fortuna ragazzi per questa diciassettesima giornata ci vediamo domani in live sia qui su YouTube che anche sulla piattaforma di Ola seguitemi su tutti i social anche perché pubblico cose interessanti ad esempio ho pubblicato un meme di me che compro diciamo all'asta al fantacalcio di riparazione l'asta di riparazione del 2021 febbraio 2021 zircze quando è arrivato al Parma sono sempre stato avanti forse un po' troppo in quel caso un abbraccio ragazzi e buon weekend e buone feste da Carmi Special ciao